Oh, poi lo mettete su Facebook. Ma su un knife, hai? No, poi lo mettete. Per tutti quelli che hanno un compagno. Ripetecilo, guardando quella qua. Ma vuoi se? Sperba. Sarei su YouTube. YouTube. Massimino, un cheese. E ossia nelle foto. E nei video. E di che caso, è qui. Cosa vuoi dire? Questo sarà da testimonianza per il professore chimico. No, non vuoi sapere. E' un professore di nome. Eh. Vito. Posso? Vedi che è proprio? Eh. Grazie a tutti.